Il programma ha come tutti gli anni un po' di arte e spettacolo per quanto riguarda l'intrattenimento, invece per quanto riguarda il menù le classiche lumache che è proprio la denominazione della sagra, poi sono tagliatelle di farro con lumache, pernetterà bellandese con un piatto tipico, bellandese con un trist di carne, piselli e funghi, poi sono clash, rosticini, salsicce, frittelle, formaggio fritto, eccetera, tantissime cose. C'è anche intrattenimento, la banda di Bellante, poi sabrosera i secondo taglio, un gruppo folcloristico, poi c'è anche il mercatino dell'antiquariato, dell'oggettistica, anche intrattenimento per i bambini con gonfiabili, giostre, quindi una sagra aperta a tutti. Siamo appena insediati da qualche giorno, iniziamo subito con questa sagra che era programmata da tempo e quindi siamo orgogliosi e pieno appoggio di tutta l'amministrazione a questa sagra che, oltre alle caratteristiche culinarie, con un piatto molto particolare, divulga e fa conoscere al di fuori di Bellante e al di fuori dei bellandesi il nostro comune, il nostro borgo. Quindi ci interessa questo che il comune di Bellante venga visitato e venga apprezzato dai cittadini della provincia di Teramo e dai turisti. Grazie